Anche i calciatori delle 166 società di serie D attendono un primo step, quello del 13 aprile prossimo. Da quel giorno potrebbero attenuarsi le misure circa lo svolgimento degli allenamenti che per ora sono stati proibiti con l'ultimo decreto governativo in quanto rappresentano una forma di assembramento. Qualora si dovesse andare verso un allentamento della norma già si potrebbe eventualmente riprogrammare un calendario di lavori fatti a regola d'arte ma ad oggi previsioni attendibili non è possibile farne. I calciatori di Campobasso, Agnone e Vasto Girardi fermi come tutti gli altri dal primo marzo scorso con le gare giocate hanno effettuato in questo lungo periodo di 35 giorni degli allenamenti di fortuna alcuni anche domestici non troppo efficaci a dire il vero ma utili per non scadere nella sedentarietà. Ma il mondo della quarta serie reca delle differenze profonde con quello del professionismo e non è immune da proteste dei tesserati. Questi infatti si trovano a fronteggiare periodi di mancati introiti con delle tutele infinitamente più basse rispetto ai calciatori professionisti. Questi stanno discutendo la possibilità di giungere a riduzioni di stipendi di fronte al periodo senza partite né allenamenti. In serie D il problema è l'opposto per chi calciatore non professionista ha come unico sostentamento quello dello stipendio chiamato rimborso spese. Si parla di cifre comunque modeste rispetto a quelle incassate in categorie maggiori. Un problema non di scarsa rilevanza. Riportiamo le dichiarazioni degli ultimi giorni del presidente dell'Entella Antonio Gozzi, imprenditore operante nel settore del siderurgico. Questi si accoda all'opinione di Lotito. Prima la salute ma bisogna anche continuare a giocare. Secondo me Lotito ha ragione, fallirà un numero rilevantissimo di società, esclama Gozzi. Molte, soprattutto in Lega Pro, vivono del minutaggio dei giovani che porta con sé la mutualità della Serie A. Ma senza diritti tv non c'è mutualità. Anche molte società di A e di B erano in difficoltà già prima, figuriamoci ora. Tanti club italiani vivono della munificenza dei loro proprietari. I bilanci in perdita vengono ripagati dai proprietari e dalle loro aziende, ma ora prima bisogna salvare le aziende. Il presidente dell'Entella poi non esita a soffermarsi anche sulle misure interdittive degli allenamenti. Le misure sono state troppo draconiane, non ci si può allenare per niente. Noi dell'Entella fino a due giorni fa facevamo venire gli atleti allo stadio. Uno alla volta arrivavano in tuta e via direttamente in campo. Si facevano i loro 35 minuti di corsa e poi a casa. Era anche un modo per proteggere la collettività. Con l'ultimo decreto gli impianti sono stati sbarrati. Il paradosso è che attorno all'isolato per strada con gli altri possono andare a correre, ma nello stadio da soli non possono più. Questo un estratto delle riflessioni significative di un industriale presidente di una società di serie B, intervista dai contenuti sicuramente importanti in un momento in cui rimbalzano tante dichiarazioni dai contenuti più o meno condivisibili.